Musica Guardi, noi siamo, ahimè, ai confini con Catania, quindi spesso si creano questi sodalizi con, come avete visto, ci sono dei bassisti nostri, ma i protagonisti, gli attori principali, e chiaramente vengono da Catania, insomma, sono sempre scritturati nel teatro di Catanese, e spesso scelgono le cittadine di confine, ma a volte si spingono anche oltre, come avete visto, anche in questa circostanza, perché, attenzione, queste sono delle rapine già consolidate e scoperte, ma non è detto che è finita qua, perché la squadra mobile sta ancora approfondendo su questa materia e su questa operazione. Sì, è vero, noi siamo molto attenti a questo fenomeno, perché da sempre abbiamo queste visite dei Catanesi, e ultimamente ne abbiamo restate parecchie anche per le spaccate, per altri reati contro il patrimonio, e anche per le truffe, e anche in questa circostanza abbiamo avuto la prova che Catania la fa da padrone da noi. Qui ne abbiamo accertati, come avete visto e vedrete nel comunicato stampa, quattro certe, ma io so, e adesso il capo della mobile sarà più preciso, e sono molto di più, insomma, verranno cesellati a breve. Noi con quella catanese abbiamo uno standard anche con le associazioni mafiose, quindi lo sappiamo, li monitoriamo, li stiamo seguendo, questa chiaramente poi lo chiederete al capo della mobile, non mi sembra sia collegata proprio alla criminalità organizzata, se non per qualche autorizzazione, ma ripeto, non vorrei dirvi cose tecniche, ve li darà il capo della mobile. Sicuramente non sgominiamo la delinquenza catanese che opera nei nostri territori, questo è ovvio, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, però ripeto, per queste domande più precise, gradirei che ve lo dicesse, se ve lo può dire, il capo della mobile. E questo è il dato che caratterizza quest'operazione, l'unione tra soggetti siracusani e catanesi che hanno svolto compiti differenti. I siracusani sostanzialmente hanno fatto da basisti, hanno indicato i luoghi e agevolato la fuga degli esecutori materiali, i catanesi invece si sono occupati materialmente di commettere le rapine all'interno degli istituti bancari. La figura di Grasso Antonino che ha fatto da Tredunion, da collante, tra i basisti locali e gli esecutori catanesi.